Una giornata storica ieri pomeriggio che resterà nei cuori e nella memoria dei tanti belpassesi che da Montpileri si sono mossi lungo l'antica reggia Trezzera, portando in processione le reliquie di Santa Lucia per raggiungere i vicini resti dell'antica chiesa della Divina Misericordia di Malpasso, distrutta dalla terribile eruzione del 1669, dove è ancora visibile un affresco con l'immagine della Santa Patrona. Così ieri pomeriggio i tanti devoti della Vergine Siracusana, i carristi, tanti componenti del circolo cittadino intitolato alla Patrona di Malpasso e ora a Belpasso, hanno preso parte ai giorni e luoghi della memoria, manifestazione organizzata dalla Fondazione Carri di Santa Lucia, preseduta da Gianni De Luca in sinergia con l'assessorato alla cultura del comune di Belpasso, retto da Barbara Laudani. Così, dopo ben 345 anni, le reliquie della martire siracusana sono ritornate in quegli antichi luoghi di fede, dove le genti di Malpasso le veneravano e da dove i padri della cittadina ettennesi premurarono di trarle in salvo all'incombere minaccioso della collata lavica che inarrestabile arrivò fino a Catania. A guidare il corteo, padre Alfio Privitera, rettore dello storico santuario di Monpileri, che conserva l'immagine sacra della Madonna delle Grazie trovata miracolosamente intatta sotto la sciara del 1669. Al suo fianco, monsignor Giuseppe Calabro, parroco della chiesa madre di Belpasso, dove sono custodite le reliquie della vergine siracusana, alla cui protezione le genti di Malpasso si affidarono dal 1636. Tra la folla di fedeli giunta a Monpileri anche il sindaco di Mascaluccia, Giovanni Leonardi. Dopo la visita ai resti della chiesa di Malpasso, la folla di fedeli ha fatto rientro al vicino santuario della Madonna della Sciara, dove è stata celebrata la Santa Eucaristia.